Sono molto contenta di aver partecipato a questo premio e sono molto onorata di averlo vinto. Mi aspetto sicuramente una crescita professionale, attualmente lavoro presso un ospedale, mi occupo di studi clinici come study coordinator, quindi mi aspetta sicuramente un passo in avanti nella mia carriera professionale e anche dal punto di vista personale. Mi aspetto di crescere, di imparare e sono pronta a farlo con tutto l'entusiasmo possibile nel migliore dei modi.